Avvocato, allora a suo dire ci sono diversi aspetti che in questa vicenda vanno chiariti assolutamente. Sono stato contattato da dei genitori che hanno avuto la fortuna di avere i figli in casa dopo questa tragedia e costruo hanno messo in piedi un gruppo Facebook, una cosa molto semplice, molto banale, ma questo gruppo nel giro di pochi giorni è arrivato a numeri impressionanti, oltre 1.400 aderenti. Quindi gli organizzatori hanno pensato, si sono rivolti a me, hanno pensato che aiutiamo l'indagine, quindi aiutiamo la procura, aiutiamo le forze dell'ordine, raccogliamo più elementi possibili da poi sottoporre alla procura della Repubblica. Perché? Perché in realtà hanno subito avvertito un certa resistenza o paura da parte anche degli stessi ragazzi a raccontare tutti i particolari di questa vicenda. si cerca di portare aiuto all'accertamento della verità, a farle emergere e cercheremo di tradurle il tutto in un esposto che verrà poi depositato alla procura della Repubblica, che chiaramente filtrerà i contenuti e vedrà se ci sono elementi che possono essere utili per andare avanti con le indagini. A suo pensiero ci sono diversi aspetti in questa vicenda che non sono chiarissimi, sono da approfondire. Decisamente. Innanzitutto quanti ragazzi erano all'interno di questo locale? Locale che per quella sala, se non ricordo male, potevano essere al massimo 497. Noi abbiamo dei numeri ben superiori ai 1500-1300, quindi eravamo oltre tre volte tanto. C'è anche da considerare un altro aspetto che è quello appunto del piano di evacuazione, cioè c'erano degli adulti che avrebbero dovuto far sì che i ragazzi potessero uscire in totale sicurezza. Ciò non è avvenuto perché purtroppo ci sono stati morti e feriti in maniera folle. E allora bisogna capire se questo piano di evacuazione innanzitutto era conosciuto dagli addetti alla sicurezza, se erano stati preparati in tal senso e perché non ha funzionato quello che eventualmente era scritto sulla carta. Il terzo aspetto importante da considerare era questa maledetta rampa. Cioè era una rampa che andava bene così come costruita, era una rampa che rispettava le regole di legge. Da alcune nostre informazioni, anche da alcuni video emerge che dietro c'era un cancello chiuso, quindi i ragazzi non riuscivano più di tanto a defluire e questo sarebbe molto grave se confermato. Altro aspetto invece da approfondire, secondo me, è invece il fatto della conoscenza di quello che è il management di Sfera. Bisogna capire che cosa realmente il management sapeva e quindi se ci sono anche dei coinvolgimenti del management. Non stiamo parlando di Sfera. Sfera è un artista, un cantante, ripeto, piace o non piace. Il management però non può non sapere. Sfera è un artista che possa piacere o meno, al di là dei gusti, che non si muove per 200, 300 persone, 400 persone. Anche per una questione di costi. È un artista che riempie gli stadi. Quindi viene in una piccola discoteca del nostro entroterra e vogliamo capire se il management era al corrente, che questa era una discoteca piccola. E allora, dove fosse invece al corrente di numeri diversi, bisogna capire che cosa realmente il management sapeva e quindi se ci sono anche dei coinvolgimenti del management. Si parla di un'assicurazione che non c'è, se c'è, insomma, anche questo è un aspetto da chiarire. È molto importante perché noi dobbiamo capire che ci sono due elementi importanti in un processo come questo. Innanzitutto l'accertamento della verità, con le rispettive responsabilità. E quindi bisogna arrivare, laddove siano accertate, arrivare alle condanne. Parallelamente, ma contestuali, insieme, c'è anche l'aspetto economico, perché sono stati fatti dei danni pazzeschi. Una vita non si risarcisce mai. Attenzione, perché qui non abbiamo solo lesioni fisiche, qui abbiamo anche lesioni psicologiche. O i responsabili hanno dei patrimoni tali da poter garantire il pagamento a tutti, ma qualche dubbio ci sta avvenendo. Oppure ci potrebbe essere un'assicurazione. Sta girando la voce, non so se questa sia ancora una leggenda metropolitana, perché non abbiamo contezza, siamo in una fase ancora molto prematura rispetto a questo, che non ci sia un'assicurazione. Se fosse così sarebbe veramente una beffa al danno enorme che c'è stato. Chiaramente se questo viene, se la responsabilità è relegata ai semplici gestori. Se il tutto invece viene allargato, se venisse riconosciuto anche a altri soggetti rispetto ai gestori, allora il discorso cambia, perché presupponiamo che chi enti o organizzazioni, manage di sfera o chi per esso insomma, ovviamente abbiano una capacità economica, una copertura assicurativa che mi auguro esista, perché laddove non esista sarebbe veramente delinquenziale. Già è delinquenziale quello che è capitato. Non organizzare un evento senza copertura assicurativa è follia. Mi auguro che questa sia soltanto una leggenda metropolitana.